Incidente a Floridia. Un operaio di 38 anni floridiano è stato vittima stamane di un brutto incidente sul lavoro. Con il suo mezzo munito di un piccolo carrello sollevatore, stava effettuando lavori di manutenzione e potatura per la messa in sicurezza di alberi resi pericolanti dal maltempo dell'ultimo fine settimana, quando uno di questi pini di media grandezza avrebbe trascinato con sé il mezzo. L'uomo è rimasto intrappolato tra il mezzo capovolto e il muretto di recensione è andato distrutto. L'incidente ha corso intorno alle 9 e un quarto. In via Mariano Pinnone sono intervenuti i vigili del fuoco e sanitari del 118 della Misericordia di Floridia, i carabinieri e i vigili urbani. Si è reso necessario il ricovero dell'operaio al Cannizzaro di Catania, dove è stato trasportato in elisoccorso. Il giovane, che comunque era vigile, non corre pericolo di vita, ma temuto per le conseguenze dello schiacciamento degli arti inferiori e, visto l'incidente, si è reso necessario subito l'intervento dell'elisoccorso atterrato in piazzale Nassiria. I carabinieri della tenenza di Floridia si stanno occupando dei rilievi sul caso. Sentiti i testimoni e le persone informate sui fatti, si vuol ricostruire l'esatte dinamica dell'incidente.